Questa è una pasta che fa mangiare le verdure anche a chi non le ama. Caserecce all'ortolana, un primo piatto squisito e cremosissimo. Segui molto food e prepariamole insieme. Per prima cosa, lava i peperoni. Privali dei filamenti bianchi interni e dei semini. Infine, tagliali a listarelle. Saltali con olio e uno spicchio d'aglio. Aggiungi il sale, mezzo bicchiere d'acqua, copri con coperchio e lascia cuocere. Nel frattempo, taglia le zucchine e le melanzane. Friggile in olio di semi caldo e quando saranno dorate, disponile su un foglio di carta assorbente e regola di sale. A questo punto, togli il coperchio e i peperoni e togli l'aglio. E prosegui la cottura finché l'acqua non sarà del tutto evaporata. Unisci tutte le verdure in una padella col pomodoro e il basilico sminuzzato. E nel frattempo, cuoci la pasta. Una volta cotta, aggiungi la pasta al sugo insieme a un mestolo di acqua di cottura. Mescola per bene e aggiungi anche il parmigiano e una noce di burro. Manteca la pasta finché non si formerà questa cremina deliziosa. Non ti resta che impiattare. Servi le caserecce all'ortolana calde e fumanti, decorando il piatto con un ciuffo di basilico fresco. Grazie a tutti.